Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob, sono un filosofo e stiamo qui con un nuovo video di teoria per discutere di alcune implicazioni, di alcune idee che mi sono formulate in testa riguardo al futuro a livello più che altro di impatto che potrà avere, di forza espressiva che potrà avere il futuro della serie di Alan Wake e di conseguenza di controllo in generale del Remediverse. Questo spunto di riflessione mi è sovvenuto non soltanto con i DLC di Alan Wake, The Lake House e Night Springs in generale rigiocando anche The Final Draft per quanto riguarda Alan Wake 2 e pensando a quello che potrebbe essere il futuro di tutto quello che ha costruito Remedy in questi anni sono un po' preoccupato, un po' di timore. Questo perché il fatto che, senza fare spoiler, si sia costruito un multiverso sostanzialmente un universo molto espanso che metta insieme tantissimi elementi e riesca a mettere insieme tantissimi spunti sia di riflessione che di tipologia di videogioco, come per esempio la differenza che c'è fra Control e Alan Wake ma anche Quantum Break, ma anche Max Payne, se effettivamente verrà incluso o riusciranno a includerlo legittimamente all'interno di questo Remediverse, mi sembra che ci siano posti talmente tante cose e talmente tanti sviluppi che la trama piano piano si stia arrare facendo, cioè nel senso che mi metti tantissime suggestioni mi metti tantissimi spunti, mi crei tantissime possibilità di considerare chi è il creatore di che cosa, se stiamo vivendo effettivamente all'interno di una costruzione di qualcun altro se tutto dipende da ciò che sta scrivendo Alan Wake, se invece sopra Alan Wake c'è qualcun altro quindi la tematica del creatore come scrittore divinità, il dio, il deus ex machina che gestisce tutto quanto ci potrebbe essere qualcuno ancora all'esterno, potrebbe essere tutto un contenuto all'interno di un altro gigantesco contenitore tutte queste suggestioni che aprono tantissime porte sono affascinanti e rimangono affascinanti per quello che riguarda perlomeno la situazione in cui ci troviamo però sento, avverto, che c'è un pericolo in cui va incontro Remedy che è quello per cui creare una trama così ramificata ma sempre più astratta, sempre più slegata da quelli che sono i caratteri e la trama proprio lineare cioè le vicende che riguardano il singolo personaggio, le vicende che riguardano l'intreccio che riguarda i vari personaggi fra loro il pericolo è quello che poi alla fine ci si potrebbe slegare da questi personaggi cioè ci si potrebbe, a livello di spettatori, fruitori, un pochino, non dico disamorare perché non è che è questione di amore o di legame non è che lo scopo dell'arte o della scrittura del videogioco è farti legare con i personaggi ma creare quella specie di insignificanza per cui, beh, tanto può succedere tutto tanto può succedere qualunque cosa, sì, ma questo potrebbe essere l'ennesima versione dello stesso personaggio questo potrebbe essere la reiterazione del carattere questo potrebbe essere Alan Wake ma anche non Alan Wake Alan Wake potrebbe perdere di forza nel legarci al suo destino come questo potrebbe accadere per Jesse o per altri personaggi in cui in realtà ci siamo legati come potrebbe essere Teambreaker e la situazione con Mr. Door e tutto quello che ne comporta anche per quanto riguarda Quantum Break quindi tutta questa creazione di porte, di sovrastrutture, di impalcature, di scatole una sull'altra che risultano affascinanti e risultano anche essere un modo in cui diciamo si riesce a costruire non il classico metaverso, multiverso alla Marvel con i vari supereroi, lo spazio, l'infinità di tutte le possibili strade quindi infinite versioni dello stesso personaggio leggermente modificate fino a che il personaggio non diventa il contrario o un po' il contrario rispetto a quello che era ma qualcosa che invece ha un suo senso ha un suo percorso, ha una sua direzione e questo lo si capisce anche dalla volontà di creare delle riflessioni sui concetti per esempio sul significato di arte sul significato di scrittura che vuol dire scrivere bene perché bisogna scrivere per forza bene per far avverare ciò che avviene effettivamente in luogo buio cioè mi sembra che Remedy sia abbastanza impostata Sam Lake sia abbastanza impostato per non fare un mappazzone di cose, di concetti weird che poi esplodono e gli esplodono in mano o diventano qualcosa di talmente rarefatto che appunto perdono di senso però il rischio è anche quello per cui nel non dare mai la soluzione si finisce per vivere una specie di film giallo o di romanzo giallo in cui però la soluzione non c'è mai e il rischio è quello per cui cosa che accade in tantissimi gialli la costruzione e finché si costruisce finché si costruiscono impalcature è sempre tutto molto affascinante perché i percorsi sono infiniti non sai chi ci può essere dietro non sai come può andare a finire non sai dove può diramarsi è tutto molto affascinante e bello e poi la risoluzione quando c'è una risoluzione è qualcosa che ovviamente non ha la stessa potenza della costruzione questo capita in un sacco di romanzi gialli ma dall'altra parte un altro problema un altro errore possibile è quello per cui tutta questa costruzione infinita faccia anche perdere la voglia di una soluzione o che magari proprio in virtù di questo punto non ci sia mai una soluzione allora un perenne giallo senza risoluzione una perenne storia affascinante senza risoluzione che in parte noi potremmo riflettere era anche quello che forse magari voleva fare Lynch con Twin Peaks e in parte gliel'hanno impedito e il risultato è stato peggiore di quello che lui voleva fare ma dall'altra parte dipende quanto per quanto tempo porti avanti la cosa perché immaginatevi che ne so 7, 8, 9, 10 stagioni di Twin Peaks come la stagione 3 senza mai arrivare costruendo tantissime versioni di Cooper tantissime versioni di Laura sono tutti i caratteri e vari caratteri che si ripetono nel loro essere leggermente diversi e appartenere tutto a uno stesso filone come per esempio potrebbe star già avvenendo in parte con Alan Wake questo per esempio mi viene quando viene detto che Alan Wake ha varie maschere una sull'altra quindi in generale riflettendo su chi controlla chi e chi stabilisce cosa effettivamente avviene ho il timore che si rischia di fare una frittata nel senso che Remedy per uscire dalla nicchia in cui era finita con Alan Wake e con Quantum Break che hanno giocato effettivamente in pochi anche Alan Wake 2 hanno giocato in pochi ma secondo me sta uscendo perché Control comunque ha avuto un discreto successo e tutta l'impostazione che loro hanno costruito proprio per legare insieme tutti i giochi e assicurarsi la possibilità di legare insieme tutto questo universo lavorano così tanto hanno fatto così tanto per arrivare al punto di ottenere finalmente il successo meritato per poi fare una parabola discendente perché semplicemente il pubblico attende 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 che ci sia una risoluzione quella risoluzione o non è all'altezza perché non può esserlo vista l'impalcatura oppure non arriva mai e la trama e le storie si talmente tanto rarefanno che diventano inutili senza che ci sia il mordente senza che ci sia un legame con lo spettatore fruitore è il caso per esempio questo lo considero un errore non di di remedi ma nel mio sistema di valutazione lo considero un errore ed è per farvi capire a cosa lo assimilo anche se non è lo stesso caso nel momento in cui noi andiamo a giocare ad esperire una forma d'arte come potrebbe essere il cinema o un romanzo o qualsiasi altra forma d'arte che abbia una narrazione quindi anche il videogioco c'è la classica sospensione dell'incredulità che non significa come pensa qualcuno farsi andar bene qualunque cosa perché tanto è finto ma significa che noi come fruitori riconosciamo che ciò che stiamo vedendo è fiction non è reale ma ci caliamo all'interno della vicenda e la percepiamo come nostra cioè quella distanza viene sospesa la distanza conoscitiva che c'è fra il fatto che non sto vedendo qualcosa di reale non è successo veramente ma lo credo tale perché tra virgolette empatizzo con tutta la vicenda questo è quello che è la sospensione dell'incredulità e non l'idea per cui va tutto bene perché tanto è finto che succede però nel momento in cui all'interno della fiction le vicende stesse sono una fiction e quindi costruire ad esempio una vicenda che in realtà è figlia di per esempio un romanzo scritto all'interno Remedy lo fa bene ma fare in modo per esempio Westworld per me non lo fa bene cioè che tutto ciò che avviene tutti i legami le situazioni siano scritte all'interno perlomeno per parte della serie fa sì che cada questo blocco cioè al terzo livello di sospensione dell'incredulità non la sospendo più nel senso non mi interessa quello che sta avvenendo è finto non riesco più ad andare oltre un certo livello ecco questo è ciò che temo ovviamente era solo per farvi capire la maniera del ragionamento con cui si arriva a quello cioè temo che invece costruire più che livelli interni costruire livelli esterni cioè dire che no non stiamo vedendo la realtà è frutto di la scrittura di qualcun altro e uscendo dal primo livello eh no però in realtà potrebbe essere frutto di qualcun altro ancora che sta gestendo tutto quanto non sappiamo chi gestisce chi le possibilità sono infinite tutto potrebbe essere finzione tutto potrebbe essere finzione nella finzione a un certo punto ci si sleghi dalla vicenda e di vabbè fate quello che volete io vedo sono un mero spettatore vedo quello che avviene davanti semplicemente vi faccio andare bene tutto e via non mi importa più Alan Wake non mi importa come personaggio è in balia di questa grande costruzione Jesse non mi importa come personaggio è in balia di questa costruzione e così via ed è il rischio che temo per il reme diverso spero che saranno capaci invece di costruire vari personaggi di portare tutto a un compimento e farlo finire a un certo punto cosa che è molto difficile e rischia appunto di non venire bene ma spero che abbiano le idee chiare per finirlo a un certo punto cioè allargare ma poi restringere perché il rischio invece è quello di trovarsi all'interno di o una nightless night o una notte che non finisce o una notte senza notte cioè totalmente il buio pieno di possibilità astratte e arrivare a avere che il reme diverso sia la matrice di tutte le storie ma l'arte è il contrario è invece parzializzare prendere una porzione e raccontare proprio quella proprio quegli eventi proprio quelle immagini proprio quelle cose non dire ok questa è la matrice se no la matrice è la fantasia non c'è bisogno di chi racconta la storia se possono essere tutte quindi spero che arrivino a un punto a un certo punto fatemi sapere voi che ne pensate del reme diverso in generale di questa riflessione di questa suggestione sul futuro di reme e anche la speranza che non buttino un po' tutto all'ortiche dopo aver veramente lavorato tanto per arrivare a questo punto sapete sono legato a tutto il reme diverso ho parlato di Alan Wake ho spiegato Alan Wake ho mostrato come American Nightmare sia in realtà canonico all'interno del reme diverso ho spiegato Quantum Break ho spiegato Control arriverò a spiegare anche Alan Wake 2 proprio perché sono dentro questa storia ma mi accorgo che anche dal punto di vista delle gamme più si rende rarefatta più si creano sovrastrutture poi c'è il rischio che non si riescano a portare o a compimento oppure si allarghino talmente tanto che diventa tutto un po' insignificante quindi questa è la mia paura voi fatemi sapere invece il vostro pensiero e noi ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti.